La Rega Pro sta cercando di riposizionarsi nell'ambito del sistema federale, cercando di recuperare tutte le energie possibili di cui dispone, ha l'esigenza di chiarire qualche problema del passato, quindi creare un diaframma, e questo lo farò in tempi rapidi, tra quella che è stata una vecchia gestione e l'attuale gestione che è proiettata verso il futuro. Quindi recuperare energie, cercare di guadagnare tante idee, trasformare le idee in progetti e poi far sì che la realtà coincida con i progetti. La Rega Pro andrà a 60 perché lo stabiliscono le norme federali, quindi abbiamo le NOIF che sono molto chiare, c'è una decisione del Collegio di Garanzia che sancisce ancora una volta il principio del format, su questo poi ci interrogheremo in futuro per capire se la Rega Pro è in grado di poter reggere questo format, ma lo faremo all'interno della capacità delle società di sapersi autodeterminare. La comunicazione è importante, è importante perché la Rega Pro oggi deve recuperare un valore fondamentale, che è il valore del suo brand, deve lavorare appunto nella valorizzazione dei progetti, si deve impegnare nel far sì che questi progetti siano non progetti di routine, progetti sicuramente da condividere nel sistema, ma devono essere innovativi. Grazie. 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 Grazie.